Sarebbe una strada di grande collegamento che fa d'arteria principale ad un quartiere limitrofo al centro residenziale. Un'area non lontana proprio dal centro ma ugualmente dimenticata, priva di servizi e eternamente sporca. Via Miraglio Rizzo a Palermo e tutte le zone limitrofe come via Donnorione, via Jung, via Castellana Bandiera e così via, vivono nella sporcizia nonostante i ripetuti tentativi dei residenti di ripulire. Immondizia in strada, sopra e sotto i marciapiedi, nelle piste ciclabili e all'ingresso dei portoni che si accumula davanti alle vetrine dei negozi e degli uffici. Una situazione assolutamente insostenibile che costringe i residenti a spazzare quotidianamente la strada per poter passare. Ma le pulizie hanno vita breve. Un colpo di vento, e in zona non manca mai, e marciapiedi e portoni si riempiono di nuovo di cartacce. Questa la situazione in ripresa è fotografata oggi, un qualsiasi giovedì. Non osiamo immaginare quale sarà domani, venerdì, giornata di mercato rionale. Il venerdì, infatti, è il giorno più temuto dei residenti. Andando via il mercatino, la situazione peggiora notevolmente e gli interventi di pulizia sono tardivi e insufficienti. Si può lasciare in queste condizioni un'intera zona della città?